Continua la querelle sul resort di lusso che potrebbe sorgere in zona Torre Salsa. Dopo il consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella che ha ribadito la totale propensione dell'ente alla realizzazione della titanica struttura, adesso ripartono con effetto quasi istantaneo le diatribe, i confronti e le intricate matasse da dipanare che tante perplessità suscitano. Protagonisti di questo continuo dibattimento sono le associazioni ambientaliste di cui alcune, proprio domenica al consiglio comunale, erano assenti. Tra queste il WWF che in una nota ha dichiarato di non aver presenziato al consiglio comunale perché non invitati. Il WWF Italia, si legge nella nota, ha chiesto al sindaco uno specifico incontro sul tema in questione da fissarsi dopo l'audizione in quarta commissione ambiente dell'ARS. Audizione dove interverranno tutti i soggetti interessati, facendo chiarezza sui diversi aspetti connessi al progetto della struttura ricettiva. Conclude così la nota del WWF Italia, l'ente gestore della riserva naturale regionale tra Siculiana e Montallegro. L'associazione del Panda ribadisce inoltre che la sospensione del proprio parere è stato un atto dovuto come ente gestore della riserva naturale di Torre Salsa in ragione del piano paesaggistico della provincia di Agrigento subentrato successivamente. Piano che inevitabilmente, secondo il WWF, rende necessario da parte delle autorità competenti la rivisitazione del progetto alla luce del nuovo strumento urbanistico territoriale. Sulla vicenda nel frattempo prendono parola le tre sigle sindacali della provincia di Agrigento. CGL e CISL e Will sono favorevoli a qualunque ipotesi di sviluppo che attrae investimenti nel territorio nel rispetto delle leggi. La vicenda Torre Salsa, si legge nella nota, sconta la mancata programmazione e l'idea di sviluppo della provincia di Agrigento. Metteremo in campo tutte le azioni propedeutiche a favore degli investimenti sul territorio, siglando accordi di secondo livello che creino condizioni per realizzare maggiore occupazione e favorire nuovi insediamenti produttivi, conclude la nota delle tre sigle sindacali, in modo da assicurare nuove prospettive alle future generazioni.